Tutto pronto in Romagna per l'undicesima edizione della Notte Rosa. Sì, 160 chilometri di riviera da Comacchio a Senigallia, aspettano i turisti per l'weekend e la Notte Rosa per l'undicesima edizione, tutto è pronto. Grandi spettacoli dove i turisti saranno, come sempre, protagonisti di questo grande evento del Capodanno della Riviera Adriatica. Naturalmente i turisti sono protagonisti e gli eventi sono straordinari. Non posso ovviamente elencarli tutti poiché ognuno troverà gli spettacoli che attraversano tutti gli stili musicali. Voglio solo ricordare Carmen Consoli, i Nomadi, ma i turisti troveranno lo spettacolo che gradiranno nel sito www.lanoterosa.it e sceglieranno quale località vivere da protagonisti. È una Notte Rosa importante con un pensiero, come proprio modalità della Notte Rosa, di dare un pensiero e un titolo ad ogni evento. E quest'anno, per un gioco di parole, ma ironico, ma molto positivo, il tema è Pink Positive. Poiché attraversiamo un periodo storico anche con delle criticità, ma sicuramente questa capacità di dialogo di tutte le amministrazioni, di tutti gli operatori privati dei 160 chilometri, visto che ora abbiamo anche come compagno di viaggio una parte del territorio delle Marche, è sicuramente un aspetto estremamente positivo, volto ad offrire sempre più una vacanza di qualità, di emozione e di accoglienza ai nostri turisti.